Ti piace? Cos'è quello? Ciao! Ho un nuovo skateboard! Wow! Posso usarlo? No! Giù le mani! Solo un giro! Cos'hai fatto? Ma questo skateboard è fatto di cartone! L'hai distrutto! Non va molto lontano con quello! Spingimi forte! Va bene! Jake ha accelerato troppo! Wow! Stai accelerando! Fermati! Ti becchi una multa! Ciao! Questo è un regalo per te! Per me? Grazie! Il mio regalo sarà migliore! Farò uno skateboard personalizzato! Togli la sospensione con le ruote da uno skateboard! Stendi il primer sul fondo! Applica un'immagine luminosa con la vernice! Rivesti con smalto acrilico! Ciao! Questo è per te! Wow! Bello! Grazie! Un bacio! Finalmente! Era solo un sogno! Quando non puoi andare su uno skateboard vero e proprio un piccolo skate ti aiuterà! Oh sì! Anch'io ne ho uno così! Imposta diversi colori di fruitella Aggiungi un po' di colorante alimentare Fai uno skateboard! Taglia l'eccesso! Usa le tic tac e gli zuccherini per dare forma alle ruote Tin! È uno skateboard! Gli skateboard non sono ammessi al college! No! Questo è uno snack! Ah! Bene! Uno skate commestibile! Lo proverò! Ai! Il mio dente! Niente skateboard in classe! Ops! Jake! Giriamo un tic toc dove tu pattini nella mia bocca? Non esiste! Bene! Sei pronto? Sto girando! Guarda! È venuto benissimo! Miammi! Hai ragione! Questo è il mio skateboard preferito! Ho una nuova custodia per lo skate! Vi piace? Taglia dei pezzi di custodia da due colori di tessuto Cucili! Aggiungi nastri e accessori Wow! Che figata! E c'è anche una tasca per il telefono! Chi ha ordinato? Ah! Non importa! Ragazzi! Ho la pizza! Grazie per la consegna! E' io! Vuoi un po' di coca? Sì! Apro sempre la lattina con il tacco! Wow! È stato fantastico! Voglio farlo anche io! Tin, guarda dove vai! Troppo tardi! Troppo tardi! Si sono scontrati! Stai bene? Mi fa male la testa! Un pop-it! Ne ho bisogno! Cosa? Ora sono pronto per qualsiasi incidente! Attacca le strisce pop-it su un casco usando la colla per unghie! Oh no! Stanno per schiantarsi! Il casco pop-it colpisce Jake! Ma lui non si è arrabbiato! Aspetta, Tin! Non ho ancora finito di giocare! Jake, sei fantastico! E il rosa ti sta davvero bene! Jake è di nuovo al centro dell'attenzione delle ragazze! È tutta colpa del suo abbigliamento! Dovrei cambiarmi! Cosa dovrei indossare? Yo! No! Sono figo! Questa non va bene! Oh sì! Sono pronto! Trasferisci un'immagine su una maglietta bianca usando i colori per tessuti! Disegna un logo con pennarelli per tessuti! Ciao a tutti! Wow! Ciao, Jake! Dean, che bella maglietta! Sei così di stile! Servo! Prendi! Voglio giocare anch'io! Mi sono rotta un'unghia! Grazie al cielo ha una lima per unghia skateboard! Non male! Siamo solo in due! Siamo solo in due! Ma ne servono tre per iscriversi alla gara di skating! Chiediamo a lui! Chiediamo a lui! Lui! Non sono sicuro! Ma possiamo provare! Vuoi unirti alla nostra squadra? Servono tre partecipanti! Io? Certo! Evviva! Non ve ne pentirete! Dean sta facendo del suo meglio! Ma non sta andando bene! Epic fail! Dean, ti aiuto io! Sali sullo skateboard! Il nastro è pronto? Sì! No, no! Ho cambiato idea! Dean, ce la farai! Vai! Forza! Andiamo! Stiamo girando un video per la competizione! Non sono brava in questo! E Dean si è rivelato essere l'unico della squadra che sa andare sullo skateboard! Vai, Dean! Wow! Allora? Sei stato fantastico! Guardati! È stato magnifico! Il mio telefono! Ha rotto? Non volevo! Sta bene! Ma non farlo più! Torno subito! Ho la tua nuova cover per il telefono! Ecco! Taglia una cover per il telefono a forma di skateboard dal cartone espanso! Fai una scanalatura per il telefono! Avvolgilo nella gomma piuma nera scintillante! Ritaglia un foro per l'obiettivo! Sfuma i bordi con un pennarello! Incolla un motivo di gomma piuma sull'altro lato! Copri i pezzi di gomma piuma con del nastro metallico e incollali! Attacca le ruote giocattolo! Wow! È perfetta! Andiamo a fare una passeggiata! Wow! Il nostro video sta diventando popolare! Abbiamo un milione di visualizzazioni! Il premio di miglior skateboarder è tutto vostro! Ce l'abbiamo fatta! Evviva! E metti un like al video! Iscriviti al canale e clicca sulla campanella! Per non perdere nessun nuovo video esilarante di Troom Troom!